No, lasciami dire, ma io sapete che con questa boccaccia a quest'età posso dire ciò che voglio, una volta si diceva in un altro modo. Beh, ti piacerebbe di rivedere Milva, Mina, scusami, Mina sulle scene. Mina, ti voglio bene, anche se a volte mi scappano delle robacce, non ti fare più vedere, perché io ti voglio immaginare, pensare com'eri 40-50 anni fa, adesso mi hanno detto che sei bellissima, però con i tuoi 120, rimani lì a Lugano, non ti fare vedere, guarda veramente, perché a me rimane il mito, e magari se la vedessi da vicino, forse, non lo so, qualcosina potrebbe, capito, deludere, no, perché lei è una madonna, però è meglio che rimanga là. Meno male che eri buona oggi, Gianni. Beh, sono buona, ho detto delle cose bellissime. Pensa quando sei cattiva. No, dai!